Ti racconto per la cosa non ho fatto vero, vero almeno in parte e fino a un certo punto Ah, vedendo qualche epoca Andiamo. Una radio, presto. Il mistero della natività è miracoloso. Che manzupo inglese. Pensate che per fare affare hanno impiegato 70 uova. 70 uova di questi periodi? Una follia. Non lo spensi. Ebbene, ecco la mia proposta. Rinunciare alla propria fetta di torta, offrendola come fioretto a Gesù. Le vie del destino sono infinite. Ebbene, ecco la mia proposta. Ebbene, ecco la mia proposta. Ebbene, ecco la mia proposta.